Ciao a tutti, allora sono qui e cercherò comunque di essere breve per rispondere ad alcuni quesiti che non ne posso più, veramente non ne posso più. Quando io sono tornata su YouTube dopo il mio periodo di punizione, mi sembra anche di essere stata chiara perché voglio dire ho parlato in italiano e tra l'altro io quando parlo cerco anche di soffermarmi su un concetto mille volte perché mi rendo conto che le persone non riescono a comprendermi quindi sì ci sono magari persone che subito mi comprendono però altre invece hanno bisogno di ulteriori precisazioni. Allora dopo essere tornata su YouTube mi sembra comunque di essere ritornata portandovi dei contenuti che non sono chissà quanto diversi da quelli che vi portavo. Alla fine molto spesso mi è stato chiesto di portare dei video che si concentrassero più su quello che noi siamo, su come possiamo reagire, su cosa possiamo fare per noi stessi. Vi porto sti video? Non va bene. Parlo di tematiche che comunque fanno parte e riguardano interamente la struttura e il funzionamento del sistema? Non va bene. Allora cos'è che va bene? Cos'è che vi va bene? Bene, io quando sono tornata su YouTube vi ho spiegato portandovi direttamente la mia esperienza che YouTube non vuole più sentire determinate cose. Per YouTube dire determinate cose è sbagliato. Voi utenti che frequentate YouTube, se non vi va bene la cosa perché guardate YouTube? Perché guardate per esempio persone che sono su YouTube? Se per voi l'informazione non è su YouTube, non guardate YouTube, non state su YouTube. Capite quello che vi voglio dire? Perché altrimenti sempre queste continue lamentele, ragazzi, oh, dopo un po' stancano. Io ogni giorno cerco comunque di pubblicare dei video, ovviamente quando il tempo lo permette perché ho comunque delle mie cose da fare, delle mie responsabilità come tutti quanti. E quindi quando posso registro dei video. Cerco addirittura a volte di farvi uscire più di un video al giorno perché penso che le tematiche possano farvi riflettere, ok, sulla natura di noi stessi, su quello che noi possiamo fare, su quello che possiamo fare proprio nella società, eccetera, eccetera. E ci sono ancora utenti che mi dicono, ma scusa, ma perché non parli, non parli più di Igne, Zioni, oppure non parli più di, insomma, tutto quello che sta accadendo nel mondo? Ma più di dirvi quello che io vi ho già detto, ok? Più di dirvi quello che io penso riguardo a questo sistema, che cosa vi posso dire? Più di dirvi, prendete con le pinze le notizie, andate avanti sempre col vostro pensiero, più di dirvi di non farvi influenzare da questo sistema, che cosa vi posso dire? Ecco perché ho detto anche nel video, quando sono ritornata su YouTube, dopo il mio periodo di punizione, che chi doveva capire, ha già capito, non serve che ogni giorno io qua sto a dirvi, eh, guardate che è successo questo nel mondo, questo, questo e quell'altro. Basta accendere qualsiasi motore di ricerca per capire lo schifo che sta avvenendo nel mondo, lo schifo che sta avvenendo nel mondo, ok? Io sono qui per tenervi compagnia e sono anche qui per dirvi che per risvegliarsi ad un sapere elevato non bisogna necessariamente essere e rimanere ancorati al sistema, ma si può anche spaziare, affrontare altre tematiche che comunque ci fanno risvegliare, ma che si discostano dal sistema. Io devo dirvi la verità, tante persone si autodefiniscono risvegliate, io stessa non mi autodefinisco super-iper-risvegliata, perché non è così. So che in questo sistema, magari in minima percentuale sì, perché comunque mi sono liberata da tante strutture e modi di pensare, questo senz'altro, ma comunque si è minimamente schiavi, ok? Però vedo che ci sono tante persone che soffrono proprio di questa cosa accecante che io chiamo autoelogio. Se non si autoelogiano non campano bene e si autodefiniscono risvegliati. Se una persona si autodefinisce risvegliata, però poi l'unica cosa che fa nel corso della giornata è pensare alla politica, all'ambiente accademico, a quello scientifico e a ciò che sta accadendo dal punto di vista esclusivo del sistema, Beh, per me, ai miei occhi non è una persona elevata, perché prima di concentrarsi su quello che avviene fuori, bisogna concentrarsi su cosa si è, su quello che avviene dentro, su cosa noi possiamo fare dal punto di vista individuale, per noi stessi, su come possiamo rigenerare il nostro corpo, la nostra energia. Perché noi possiamo rigenerare il nostro corpo e la nostra energia? Noi siamo energia, però purtroppo molte persone non si rendono conto che andando comunque ad affrontare, a parlare sempre delle stesse cose, non fanno altro che negativizzarsi. Negativizzarsi che cosa significa? Fare il gioco del sistema, quindi andare comunque a negativizzare la nostra energia significa che cosa si va a fare? A creare un equilibrio praticamente confuso, che non lo chiamerei nemmeno equilibrio, si va a creare un distacco tra il benessere corpo-mente. Corpo e mente sono un tutt'uno ragazzi, se non va, non stiamo bene con la mente, non saremo nemmeno bene con il corpo. Quindi se dal punto di vista mentale ci fissiamo tanto su alcune cose, è ovvio che poi la distorsione energetica, che è una conseguenza poi di questo nostro fissarci sulle cose negative, ci porterà anche a sviluppare delle patologie dal punto di vista fisico, delle malattie, dei malesseri, dolori. Perché è così? Noi siamo energia. Quindi pensate che sia bello concentrarsi e focalizzarsi esclusivamente, sempre e solo su queste cose negative? Questo è uno dei motivi per cui ho chiuso il gruppo Telegram, visto che molti me l'hanno chiesto e non intendo più farne un altro di gruppo Telegram, perché io ho creato quel gruppo Telegram per cercare di stare comunque insieme, di darci forza a vicenda, di trasmetterci sensazioni positive. E' ovvio che poi comunque in un gruppo Telegram si discute pure di quello che accade nel mondo, di quelle che sono le notizie che purtroppo ci devastano, no? Perché è importante affrontare anche quelle che sono le cose che avvengono in questo sistema per cercare di tutelarci ancora una volta. Però se in un gruppo viene affrontata solo ed unicamente questa tematica, capite bene che oltre a negativizzare voi stessi, negativizzate anche gli altri. Eravamo arrivati ad un punto in cui nella chat le persone mi scrivevano, non è possibile, sempre la solita storia, e tra l'altro eravamo arrivati anche ad un punto in cui a scrivere erano sempre e solo le solite persone, che condividevano sempre degli articoli comunque uguali. E quindi se non ci si concentra sull'individualità, ma ci si concentra soltanto sulle cose su cui il sistema vuole che noi ci concentriamo, come pensiamo, come facciamo anche solo a definirci o ad autoelogiarci come, non lo so, degli esseri che sono già arrivati al sapere assoluto. Ma veramente? Ma voi pensate veramente che sia bello concentrarsi ogni giorno su delle cose negative? Io stessa stavo sbagliando a portarvi sul canale sempre quelle notizie che comunque sì, bisogna diffondere, perché la consapevolezza, la verità, bisogna diffonderla. Però magari questo tipo di verità riguardante questo tipo di tematiche, che ne so, lo andrò a diffondere altrove. Quando avrò il tempo per farlo? Non è che io vivo per YouTube, non è che io vivo esclusivamente per portare avanti i miei canali. Oh, che una vita ce l'ho anche io, eh. Io non è che... perché molto spesso è apri qua, apri là, apri là, apri un profilo là, apri... Oh, cioè, no. Io ho dato anche tanto tempo alle persone, ho dato un modo attraverso quel gruppo Telegram alle persone di interagire direttamente con me. Molto spesso ero io magari ad uscirmene con una tematica, a porre qualche quesito e pensate che le persone stavano lì a rispondermi, forse coloro che mi rispondevano erano due o tre su un gruppo di quasi mille utenti, due o tre persone. Ad un certo punto, quando ho visto che ponevo un quesito, nessuno rispondeva. Magari cercavo di andare oltre quelle che sono le tematiche del sistema, quindi parlare anche di altro, anziché le risposte venivano condivisi altri link, sempre tutti, 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 tutti uguali. C'erano addirittura persone che dicevano, eh, chi si è fatto, sicuramente andrà al creatore. Come fai? Come fai a mantenere un gruppo del genere in cui magari la maggior parte delle persone che sono là dentro sono state per forza di cose, perché altrimenti se non ti fai non lavori e si vedono e leggono, beh, tu che ti sei fatto le ture, allora andrai dal creatore. Nel senso che, appunto, morirai. Ma come si fa a portare avanti un gruppo così negativo in cui l'unica cosa che veniva condivisa era la negatività? Non posso permettere alle persone di negativizzarsi in questo modo e questo è perché l'ho chiuso, questo è il motivo perché l'ho chiuso, perché mi stavo negativizzando anche io a leggere. E all'inizio, invece, ero sempre disponibile, trascorrevo addirittura tipo le ore, che magari non dedicavo al montare i miei video, le trascorrevo proprio lì, perché voi per me non siete mai stati un numero e mai lo sarete, per me siete delle anime, voi siete delle anime meravigliose. Però, non vi rendete nemmeno conto del fatto che a volte voi stessi non sapete che cosa volete, perché si parla di una tematica, beh, parla anche di cosa noi possiamo fare, vi parlo di cosa noi possiamo fare e ritorno a parlare di altro, io del di altro non ritornerò a parlare. Io non vi parlerò più delle cose, delle indie, perché non ne parlerò più. YouTube, YouTube segue degli schemi. Allora, voi volete che io continui a tenervi compagnia? Perché quindi mi dite o mi suggerite di continuare a parlare di queste tematiche? Allora devo cominciare a credere che molte persone, eh, perché, figuratevi ragazzi, non sono stupida. Quindi devo cominciare a credere che le persone molto spesso dicendomi così è come se mi stessero dicendo, continua così almeno ti levi di mezzo, perché fino alla fine YouTube ti bloccherà completamente. E io sono stupida, secondo voi? Sono stupida da boccare a questo amo di menzogna e falsità? No! Io vi sto portando dei contenuti sul canale che sono praticamente in linea con le cose di cui parlavo prima. Semplicemente sono delle tematiche che analizzano il tutto da un altro punto di vista, da un punto di vista più individuale, da un altro punto di vista. Ma comunque continuerà a parlarvi del sistema, ve l'ho già detto. Però, tranquilli, calma. Calma! Non sono... Io ve l'ho detto in mille modi, mille salse ciò che penso di quello che sta avvenendo in questo momento, su questo mondo, e anche di quello che è avvenuto in passato e di quello che potrebbe avvenire in futuro. Che devo stare qui, a ripetere sempre, come il rosario, tutto quello che penso, anche se le cose che penso sono sempre quelle. Non vi servo io per capire che viviamo in una minzogna colossale dal punto di vista accademico-scientifico, dal punto di vista dei media. Non devo dirvelo io. Ormai non servo più io. Potrei continuare a portarvi questi video inventandomi dei sostituti di vocaboli, ma non mi va più. Lo capite quando una persona è stanca? Lo capite, ragazzi, quando una persona è stanca? Io sono stanca. Mi sono sempre espressa in modo veramente impeccabile. Mai una parola fuori posto, una parolaccia. Niente di niente. Nonostante questo, vedete cosa fa il sistema? Vedete cosa fa il sistema? Quindi io, perché, visto che conosco tante cose, visto che ho letto tantissimi libri, perché devo limitare il mio essere a quello che è il volere del sistema? Ho altro? Ho altro da condividere, da farvi conoscere? Sì, allora perché mi devo fermare semplicemente a quello che avviene nel sistema quando poi ci sono tante altre tematiche che andrebbero sviluppate? Continuerò sempre a tenervi compagnia. Però, ragazzi, insomma, leggere notizie, leggere, soprattutto, non è pesante. Quindi potete anche benissimo farlo da soli. Non vi servo più io, l'avete ormai capito, o meglio, chi doveva capire l'ha capito, che non si vive in un mondo puro e non si vive nemmeno in un mondo in cui ci viene detta la verità. Più di dirvi questo, ragazzi, ma io che cosa vi posso dire? Io sono sul vostro stesso treno. Tutti noi siamo sullo stesso treno. Però diciamo che viaggiamo su questo treno con un bagaglio di consapevolezza un pochetto più pesante rispetto ad altri. Ok? Quindi io che cosa vi posso dire? Devo dirvi che, che ne so, da oggi non pubblicherò più perché... No, ragazzi, ma me ne frego, io me ne frego. Non vi potrei mai proporre un canale monotematico, anche sul mio secondo canale. Io sul mio secondo canale non riesco a parlare esclusivamente del paranormale o degli alieni. Io devo creare, devo creare, 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 cercare, informarmi, perché mi piace fare così. Quindi se io ho deciso di non parlare più di determinate cose, che poi di che cos'è che non vi sto parlando più? Delle igne, non è che non vi sto parlando più del sistema. Continuo a parlarvi del sistema, ma se io ho deciso che non voglio più parlarvi delle ignzioni, non ne parlo più, punto. Non ne parlo più perché mi hanno stancata completamente. Sempre questo voler tappare, 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 tappare la bocca a pareri diverse, a idee diverse, a opinioni diverse. Mi sono stancata, ragazzi. Mi credete? Mi sono stancata. Mi sono stancata. Allora, visto che ho tanto altro da trasmettervi e tante altre tematiche su cui riflettere, concentriamoci su quelle. Poi ragazzi, se non avete più il piacere di seguirmi, ma io vi ho mai detto di seguire il mio canale, non vi ho mai detto di seguire il mio canale, fate quello che volete. Ho un secondo canale, potrei essere qui a farvi la testa come un anguria, a dirvi iscrivetevi, iscrivetevi, non lo dirò mai, è una vostra scelta. Vi piace il secondo canale? Bene, se vi va, vi iscriverete. Se vi è piaciuto un video, qualcuno si iscriverà, ma io non sono qui per forzarvi a fare un bel nulla. ok? Non sono nemmeno qui a dirvi, continuate a seguirmi. Oh, posso piacere e non piacere, se non vi piaccio più ragazzi, è stato bello, capite? Però, io sono così, io sono così come mi vedete, io sono vera, io non riesco a fingere, ok, di stare qua, a parlare, così, no, io ci sono giornate in cui non riesco nemmeno a registrare, perché dal punto di vista mentale non sono predisposta a registrare. Io sono così come mi vedete, non è che cerco la tematica che fa più visualizzazioni, non sono così, lo vedete pure dal mio canale, lo vedete pure dal mio canale, ok, quindi, basta farmi domande di questo genere, vi ho già detto che non parlerò di determinate tematiche, non per cattiveria, ma perché non ho più voglia comunque di stare lì a sottomettermi a questo sistema che mi mette milioni e milioni di nastri adesivi sulla bocca, basta, ci sono tante altre cose di cui parlare, tante altre cose molto, anche più importanti di cui parlare, quindi concentriamoci su quelle. Vi auguro un buon proseguimento e noi ci vediamo al prossimo video.